Francesco Maria Di Maio è il presidente dell'autorità portale del Tireno Centro-Settentrionale che tra l'altro è incardinata a Civitavecchia, non solo il porto di Civitavecchia, ci dirà lei. Ed è un'autorità che recentemente ha avuto un'importante gratificazione internazionale. Sì, il recuperamento dei porti che fa capo a questa autorità di sistema portuale prevede Civitavecchia, Fiumicino e Geita, sono i tre porti più importanti del Lazio. L'altro ieri abbiamo avuto un riconoscimento molto importante a livello internazionale da parte della Commissione Europea che ha riconosciuto l'importanza del progetto che Civitavecchia si è visto recentemente aggiudicare insieme al porto di Barcellona con anche come supporto in parte Grimaldi e un endorsement della Regione Lazio che prevede la realizzazione di una nuova banchina che andrebbe a sviluppare ulteriormente questa autostrada del mare che da qualche anno si sta creando tra Barcellona e Civitavecchia. Una autostrada del mare che non finisce a Civitavecchia, questo più volte tendo a sottolinearlo perché in realtà è un punto di arrivo che noi speriamo possa ultimamente rafforzarsi nella direzione di una trasversalità verso l'altro versante italiano, cioè dell'Adriatico. Quindi sfruttando i porti di Ancona, di Ortona e Pescara e eventualmente anche di Bari. E su questa trasversalità, come sapete ci sono dei progetti che anche l'ANAS e le ferrovie italiane hanno portato avanti, che si stanno completando. La trasversale Orte-Ancona è praticamente terminata, manca un ultimo tratto tra Orte-Citavecchia che è stato oggetto di diverse discussioni, sono 18 chilometri mancanti, cruciali, dove il finanziamento esiste, ma i cantieri no, i cantieri esistono per una parte ma sono quelli coperti dalla regione Lazio e quindi speriamo che si possa sbloccare. Ci sono ovviamente delle problematiche di carattere ambientale che non possono essere sottovalutate e quindi su questo spero che si trovi un giusto equilibrio. Sulla ferrovia stiamo cercando, la ferrovia che potrà collegare Citavecchia con Orte, stiamo lavorando, sostenendo un'iniziativa volta al ripristino di una linea ferroviaria che era appunto già esistente e che è stata dismessa, che vorremmo che venisse anche utilizzata per il traffico merci. Questo consentirebbe di decongestionare il nodo di Roma, che oggi è ovviamente anche a livello ferroviario molto congestionato, evitare che i treni che portano anche materiale pericoloso passino a un chilometro di distanza da San Pietro, facendo tutto l'anello di Roma per fuoriuscire e tornare in Umbria. Noi abbiamo uno dei più importanti, siamo i primi e gli unici forse anche fornitori dell'acciaieria di Terni, di ferrocromo. Tutto arriva da Citavecchia e a Citavecchia viene purtroppo veicolato attraverso i vagoni ferroviari verso Roma e da Roma poi risalgono verso l'Umbria. Noi speriamo che oggi si parlava di come migliorare i collegamenti infrastrutturali, quindi stiamo parlando di poi di investimenti che non costano tanto, che non hanno impatti ambientali notevoli, anzi in questo caso andremo a ripristinare una linea già esistente, quindi non si tratterebbe di creare nulla di nuovo. Abbattendo emissioni. E tra l'altro abbattendo molte emissioni. Quindi questo è il nostro proposito e siamo comunque molto contenti di questo premio, di questo riconoscimento che abbiamo avuto a livello europeo, tra l'altro in un palcoscenico molto importante perché siamo a Lubiana davanti al commissario europeo sui trasporti e 2.000 persone del mondo dello shipping internazionale. Complimenti, ma qui siamo anche per parlare di futuro e di necessità per il futuro della logistica italiana in vista di una serie di scadenze importanti, compresa quella poi del 2029 alla quale alludeva in questo panel, in corso, l'ex societario Giacchino. Allora, lei come socio onorario, le autorità, molte autorità sono socio onorari di Alice, soprattutto onorari perché siete istituzioni pubbliche, ma siete presenti però a 360 gradi sul tema dell'intermodalità. Qual è la priorità che indicherebbe dal suo osservatorio, senza pretendere di parlare di tutta Italia, ma insomma dal suo osservatorio la priorità delle cose da migliorare? L'intermodalità è uno degli aspetti che è stato oggetto del panel a cui ho partecipato a Lubiana, in cui io ho espresso le linee di intervento che anche come autorità noi dovremmo promuovere, come autorità di sistema portuale, nei limiti delle nostre competenze che sono sostanzialmente di carattere giuridico, di quadro normativo che consentirebbe un maggiore utilizzo anche della intermodalità nel senso anche contrattuale del termine, cioè di far sì che attraverso un unico quadro normativo contrattuale si possa trasportare una merce con diverse modalità di trasporto e questo è stato anche oggetto di discussione con i funzionari della Commissione Europea che sono poi coloro che potrebbero prodisporre un testo di direttivo o di regolamento in questo senso. L'altro aspetto molto importante è ovviamente quello infrastrutturale, cioè l'intermodalità funziona se ci sono le infrastrutture, quindi oggi se un TIR viene imbarcato su una nave da Barcellona per arrivare a Civitavecchia, come dicevo prima, poi deve avere il modo di uscire in tempi rapidi dal porto, quindi le connessioni di ultimo miglio sono per questo aspetto fondamentali, oppure come avviene in alcuni porti virtuosi sotto questo profilo, per esempio la Spezia e Trieste, cioè far sì che i TIR possono prendere la via del treno, quindi imbarcarsi in qualche modo non più sulla nave ma su un vagone e poi proseguire il nuovo viaggio verso anche il centro Europa, nel caso di Trieste arrivano addirittura in Germania, quindi questo sarebbe ovviamente l'optimo. E l'altro aspetto è quello ambientale, cioè l'intermodalità non può prescindere dal rispetto dei criteri ambientali, però come si arriva a convincere soprattutto il cosiddetto shift, il trasferimento da strada a ferro o a mare attraverso gli incentivi, quindi bisogna, perché attualmente ci sono ancora dei gap notevoli in termini di costi, soprattutto quello veroviario e quello marittimo rispetto a quello stradale in alcuni casi, quando soprattutto le distanze non sono molto lunghe. In questo caso è necessario che il Governo o l'Unione Europea intervenga con degli incentivi, cosa che come è stato già fatto, oggi abbiamo il mare bonus che è un finanziamento molto importante che il Governo ha adottato l'anno scorso e che è stato tra l'altro vagliato anche dalla Commissione Europea, che è considerato come legittimo, sono più di 100 milioni messi a disposizione e quindi vanno proprio agli operatori. Questo è un importante secondo me intervento che penso che poi potrà essere anche replicato in futuro. Allora, ringraziamo e ancora complimenti per il riconoscimento europeo che fa sempre piacere quando è acquisito da una realtà italiana. Grazie mille.